Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come creare un operatore RageJS custom, quindi andare a creare un proprio operatore RageJS che può essere anche un operatore che non esiste ma è difficile che questo accada, diciamo che abbiamo in RageJS tutti gli operatori che ci servono per fare praticamente qualunque operazione ma può essere utile per andare a creare un gruppo di operatori che utilizziamo molto spesso, no? e quindi in realtà utilizzandoli spesso potrebbe essere carino raggrupparli in un operatore custom che poi li utilizza. Chiaramente questo sarà un esempio molto semplice, creeremo un operatore che riceve una stringa in input presa da un form reattivo quindi form reattivo che ci espone in Angular un value changes che è un observable e che quindi restituisce e mette un valore in questo observable ogni volta che viene scritto qualcosa in un campo di input, quindi se scriviamo ABC vediamo effettivamente che vengono emessi tre valori, no? A, AB e ABC. Quindi abbiamo questo console log, salviamo il valore in value e lo visualizziamo qua. Diamoci un obiettivo, l'obiettivo quello di rendere il testo in minuscolo sempre, quindi se io scrivo ABC vorrei per esempio ricevere direttamente in questo punto il testo già in minuscolo e vogliamo anche rimuovere eventuali simboli, tutti i simboli che andiamo a inserire li vogliamo sostituire con dei trattini per esempio con un separatore custom. Chiaro che io potrei semplicemente a un certo punto usare qui to lowercase e andare ad utilizzare per esempio il replace con una regular expression andando a sostituire i caratteri per esempio col trattino. Quindi qui potrei scrivere ABC in maiuscolo con un simbolo atto, vari simboli e otterrei già il risultato. Nessun problema. Però ovviamente l'obiettivo del video è quello di creare un operatore custom che può essere utile quando le operazioni sono ben più complesse di queste e quando vogliamo raggruppare per esempio più operatori. Perché parlo di operatori? Perché qui non stiamo sfruttando un approccio idiomatico di array XJS. Per farlo dovremmo per esempio, potremmo insomma per esempio utilizzare il metodo pipe, la funzione pipe e qui andare per esempio ad utilizzare l'operatore map, riceviamo il testo e successivamente andiamo ad applicare questo. Quindi andiamo a copiarlo da qui e lo piazziamo qui dentro. A questo punto il nostro testo sarà già formattato correttamente. Quindi se scriviamo ABC e altre informazioni abbiamo quello che desideravamo. Quindi testo formattato in minuscolo con i trattini. Benissimo. Se non ci piace questa stringa effettivamente troppo lunga possiamo anche pensare di dividere in due le operazioni. Prima effettuiamo un lowercase, poi qua potremo avere anche degli operatori che lavorano su questo lowercase e successivamente andiamo poi a effettuare un replace. Questo semplicemente per simulare chiaramente la gestione di più operatori. Quindi in realtà questo è un esempio semplice, ripeto, ma qui potremmo avere switch, ma potremmo avere filter, potremmo avere reduce e molto altro. Ora quello che vogliamo fare invece è prendere questi due operatori e in realtà creare un unico operatore che si chiamerà remove and replace per esempio. Quindi rimuove un simbolo e rimpiazza con un simbolo che andiamo a passare, per esempio il trattino. Quindi creiamo questo operatore, remove and replace. Lo scriviamo qui sopra ed è semplicemente una funzione. Una funzione che riceve come argomento il separatore, come abbiamo definito, che sarà una stringa e può avere anche un default, per esempio l'underscore. Quest'operatore è un operatore che riceve una stringa e restituisce in input e restituisce in output una stringa. Quindi può essere utilizzato una speciale type chiamato mono type operator function e lo possiamo utilizzare quindi qui come tipo di ritorno del nostro elemento, specificando che il tipo in realtà in ingresso e in uscita è una stringa. Ok, ora abbiamo un errore semplicemente perché non restituiamo questa stringa, quindi quello che facciamo è recuperare l'operatore e l'observable che abbiamo ricevuto in ingresso e appliceremo semplicemente con la solita funzione pipe andremo ad applicare i due map che avevamo creato in precedenza o appunto come abbiamo visto altri n operatori, quindi sincroni o che siano asincroni come per esempio potremmo switchare un altro observable con switch map e così via o usare appunto, dicevo prima, reduce filter eccetera eccetera. Ho dimenticato la freccina della mia arrow per definire il blocco chiaramente della mia funzione e ora vediamo il risultato. Il risultato chiaramente sarà quello che ci aspettavamo, quindi andiamo a scrivere simboli, testo di maiuscolo e avremo comunque sia invece un adesso operatore che prende una stringa in input e fa quello che avevamo prefissato. Chiaramente ci sono diverse tipologie di operatore, questa è il monotype operator function, abbiamo anche eventualmente la possibilità di ricevere una stringa in input, facciamo un esempio banale di effettuare delle operazioni al server per recuperare da un rest API dei dati, quindi restituire un oggetto per esempio o restituire comunque delle diverse informazioni o comunque dei dati di tipo diverso rispetto a quelli in ingresso e in quel caso useremo operation function invece che il monotype e qui chiaramente può utilizzare degli altri operatori ma l'approccio comunque potrà rimanere molto simile. Ci sono chiaramente operatori custom che richiedono invece comunque uno stato interno o operazioni più complesse ma chiaramente poi lascio a voi approfondire guardandovi un po' di video su YouTube, ne trovate diversi, molto interessanti, comunque molti articoli su Medium e via dicendo. Ciao, spero che questo video vi sia piaciuto.